Caltanissette è arrestato per una rapina e due scippi, episodi risalenti al dicembre scorso nel centro storico. Droga operazione Lin, condanne per complessivi 20 anni e 8 mesi, la sentenza riguarda 3 uomini che dopo le formalità di rito sono stati rinchiusi al Malaspina. Processo per la risalgo di Palermo in cui morì il giovane San Cataldese Aldonaro, chieste 3 condanne. Gela a fuoco il pulmino di un centro di riabilitazione per disabili. Bentrovati in studio con l'edizione di oggi del telegiornale, apriamo parlando di cronaca. Caltanissette è arrestato per una rapina e due scippi, episodi risalenti al dicembre scorso nel centro storico, ma sentiamo i dettagli nel servizio. È indiziato di essere l'autore di una rapina e di due scippi consumati lo scorso dicembre nel centro storico di Caltanissette. La Polizia di Stato, nel corso delle indagini preliminari, ha eseguito una misura cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissette su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di un uomo indagato per i reati di furto aggravato e rapina. L'arrestato è sospettato di aver commesso una rapina e due scippi nel centro storico di Caltanissette lo scorso mese di dicembre. Dalla visione di numerose immagini dei sistemi di videosorveglianza installati in zona, è emerso che l'uomo in uno degli episodi contestati, dopo aver tentato di strappare la borsa a una donna, non riuscendo nel suo intento per la resistenza della vittima, l'avrebbe trascinata a terra facendole battere la testa sul selciato. Inoltre, lo stesso uomo è indagato in relazione un altro scippo e una tentata rapina realizzati il giorno successivo nei confronti di un'altra donna. Gli investigatori, dall'analisi incrociata delle immagini registrate nei luoghi interessati, sono riusciti a dare un volto all'indagato, individuando alcune particolarità fisionomiche dello stesso. Inoltre, in questura sono state convocate alcune persone che hanno assistito ai fatti di reato e sarebbero in grado di riconoscere il presunto autore dei fatti contestati dalle autorità. Così la Procura della Repubblica di Caltanissetta, che ha coordinato le indagini, ha chiesto e ottenuto la misura catelare della custodia in carcere disposta dal GIP, che ha accolto la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza raccolti dalla squadra mobile della Polizia di Stato. E ancora cronaca, parliamo dell'operazione all-in, condanne per complessivi 20 anni e 8 mesi. E riguarda tre uomini. I carabinieri del nucleo investigativo, coadiuvati dai militari della Compagnia dei Carabinieri di Caltanissetta, in esecuzione delle ordinanze di carcerazione emesse dalla Procura Generale presso la Corte d'Appello di Caltanissetta, hanno tratto in arresto tre persone, condannate in via definitiva a vario titolo per i reati di cui è gli articoli 73 e 74 del DPR 309 del 90. Per uno di loro due anni e otto mesi di reclusione, gli altri due invece dovranno scontare uno dieci e l'altro otto anni di reclusione. Si fa riferimento nel comunicato dei carabinieri all'operazione all-in, svolta dai carabinieri di Caltanissetta tra settembre 2011 e agosto 2012, si legge, nel corso della quale vennero riscontrati numerosi episodi di spaccio, prevalentemente cocaina e hashish, in questo capoluogo. Dopo le formalità di rito, le tre persone sono state associate presso la casa circondariale di Caltanissetta a disposizione dell'autorità giudiziaria. Processo per la rissa al Goa di Palermo in cui morì il giovane sancataldese Aldonaro. Chieste tre condanne. Tre anni per il buttafuori Francesco Troia e Massimo Barbaro, proprietario della discoteca Goa di Palermo, e sei mesi per Antonino Basile, avventore del locale. Sono queste le richieste del pubblico ministero nei confronti degli imputati nel processo di primo grado per rissa aggravata e favoreggiamento scaturito dalla morte di Aldonaro, il giovane medico ucciso la notte del 14 febbraio 2015 nella discoteca Goa di Palermo. Secondo l'accusa, la rissa sarebbe scoppiata a causa del furto di alcuni cappellini da cowboy a cui avrebbe preso parte Basile, mentre Troia, intervenuto in un secondo momento, avrebbe colpito Aldonaro all'interno dell'area privè. Il buttafuori sarebbe stato riconosciuto da alcuni testimoni e dalle scarpe rifrangenti che indossava. Massimo Barbaro avrebbe, secondo l'accusa, nascosto alle autorità giudiziaria la presenza abusiva dei buttafuori all'interno del locale dello Zen, tentando di sviare le indagini, favorendo così il minorenne Andrea Balsano, condannato in via definitiva per omicidio. La prossima odienza, fissata il 24 febbraio, sarà il turno dei legali della parte civile, che assistono la famiglia della vittima. Nella stessa odienza parlerà anche l'avvocato difensore di Antonino Basile. A Ravenna, gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Gela, con la collaborazione della questura locale, hanno tratto in arresto un 38enne gelese in esecuzione di provvedimento di esecuzione di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gela per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo, a seguito di condanna definitiva, deve scontare la pena di 11 mesi e 12 giorni di reclusione. Gela a fuoco il pulmino di un centro di riabilitazione per disabili. Mercoledì sera di fuoco a Gela in provincia di Caltanissetta. In particolare, un pulmino di un centro per la riabilitazione dei disabili, a Borgo Manfria, sarebbe stato dato alle fiamme. Il rogo avrebbe coinvolto anche altri due furgoni, sempre di proprietà dell'associazione, e utilizzati per il trasporto dei disabili. I due mezzi sarebbero rimasti anneriti dalle fiamme. Sul posto è intervenuta la polizia e i vigili del fuoco per domare le fiamme e effettuare il sopralluogo di rito, da cui sarebbe emersa la natura dolosa dell'incendio. I vigili del fuoco avrebbero infatti ritrovato un bidoncino contenente liquido infiammabile. Intanto continua l'attività investigativa della Polizia di Stato per fare ulteriore chiarezza sulla vicenda. E cambiamo argomento. Parliamo dell'alerta a meteo. Ordinanza del sindaco di Caltanissetta. Oggi scuole chiuse. Ieri sera il sindaco Roberto Gambino ha predisposto oltre la chiusura delle scuole anche quelle delle ville comunali, dei parchi pubblici e del cimitero. Durante la sua diretta ha chiesto alle famiglie la massima collaborazione affinché i loro figli, non andando a scuola, non approfittino di questo stato di cose per uscire liberamente. Considerata l'allerta meteo per la giornata odierna, il primo cittadino ha raccomandato di stare a casa e di evitare gli spostamenti se non per casi urgenti. Il Dipartimento di Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo di livello orancione sino a venerdì 10 febbraio e raccomandano ai cittadini di mantenere prudenza negli spostamenti a piedi o con l'automobile, di evitare i sottopassaggi, di non utilizzare mezzi a due ruote e di non sostare in prossimità di aria a rischio. Come si evince, al momento le precipitazioni si concentrano sulle province orientali con piogge fino a 80 mm. Il Nisseno è sfavorito da tali correndi e potrebbe entrare in gioco solo nel tardo pomeriggio odierno ma con piogge più moderate. Probabilmente anche il centro Sicilia avrà la sua razione d'acqua tra stanotte e domattina allorquando il sistema tenderà ad allontanarsi definitivamente. E ancora maltempo, disagi anche nell'Agrigentino, neve e gelo in diverse zone spargimento di sale sulla provinciale 24, Cammarata, Santo Stefano Quisquina. L'arrivo della forte perturbazione con neve e gelo proveniente da nord-est ha intensificato i disagi su tutta la rete autostradale siciliana con alcune zone, come la provincia di Agrigento, particolarmente colpite dall'abbassamento della temperatura. Da mercoledì, infatti, l'area altocollinare montana è interessata da precipitazioni di neve. In particolare, la strada provinciale 24, che unisce i comuni di Cammarata, di Santo Stefano e Quisquina, è stata ricoperta da oltre 24 cm di neve sin dalle prime ore del mattino e sulla quale si è reso necessario l'intervento del Libero Consorzio Comunale con spargimento di sale sulla carreggiata e l'attivazione di due macchine spazzaneve. Il disagio causato dalle precipitazioni dal ghiaccio, dovuto alla diminuzione repentina delle temperature, ha condizionato l'intero territorio agrigentino e la viabilità con altre province limitrofe, come Caltanissetta e Palermo. Sono state segnalate difficoltà nella strada provinciale 25 Mussomeli-Tumarrano e nella strada provinciale 26, fra Cammarata e il confine con la provincia di Palermo. Parliamo adesso di spopolamento. Lo studio del Sole 24 Ore in Sicilia, il fenomeno riguarda principalmente Caltanissetta, Enna e Agrigento. Si va via da Caltanissetta, Enna e Agrigento più che da ogni altra città della Sicilia. A dirlo sono i dati su cui si basa uno studio del Sole 24 Ore sullo spopolamento territoriale. Dopo aver cercato lavoro nella mia città, Caltanissetta, e in città della mia splendida terra, la Sicilia, mi sono sentita costretta a dover fare la valigia ad andare via per cercare stabilità e non essere schiacciata dal senso di frustrazione e di precarietà. Io e il mio fidanzato ci siamo trasferiti a Piacenza, dove adesso lavoro in un RSA e svolgo attività volte a promuovere il benessere psicologico per anziani, operatori e familiari. La rabbia che provo è tanta, perché ogni giorno dono passione, professionalità e competenza a una terra che per quanto mi abbia accolto e ne sono immensamente grata, non è la mia. La nostalgia la riversa nella mia scrittura. Dono tante pagine alla mia terra che, come scriverò appunto nel prossimo libro, è la mia e mi abita dentro. Alla domanda perché ho lasciato la mia terra rispondo con un po' di amarezza. Mi piacerebbe dire invece per scelta perché volevo nuove sfide, ma la verità non è questa. È che non c'erano le condizioni lavorative adeguate. Pagavo le tasse in una terra che non mi restituiva indietro alcun tipo di servizio. Le strade sono sempre rotte, le ferrovie sono malandate. Tutto questo chiaramente non può favorire il lavoro, anzi lo rallenta, quindi non ottimizza i processi lavorativi, non favorisce quindi la crescita di un'attività. Ho provato a mettermi in gioco, ho provato a fare del mio meglio, mi impegnavo moltissimo, avevo delle associazioni, organizzavo tanti eventi culturali e artistici, ma questi non venivano neanche riconosciuti come lavoro, perché purtroppo nella mia terra se ti occupi di un ambito creativo allora è un hobby, non può essere un lavoro. E quindi mi sono scontrata con tutta questa realtà, ne ho sofferto, poi alla fine mi sono detta Miriam anche tu hai diritto ad una vita vera e quindi sono andata via. Si cercano maggiori opportunità di lavoro, servizi e qualità della vita, ormai si emigra non solo verso il nord Italia, in molti scelgono di andare via per sempre dall'Italia preferendo l'estero. Ad aumentare in modo determinante è il dato degli iscritti all'anagrafe degli italiani residenti dell'estero, a lasciare l'isola giovani e uomini adulti con profili professionali ben definiti, che andranno così a sostenere l'economia di altri paesi. Sono in 20.000 i giovani nisseni andati via dal territorio della provincia di Caltanissetta che sommandosi a quelli di Enne ed Agrigento arrivano a 90.000 giovani delle tre province. Anche i pensionati fanno la valigia, preferendo paesi stranieri con minore pressione fiscale, con servizi più efficienti e costi di vita più bassi. Cambiamo ancora una volta argomento, lavoratori precari Covid, UGL Salute, incontro con l'assessore regionale Giovanna Bolo. Il segretario regionale della UGL Salute, Carmelo Urzi, e il responsabile nazionale del coordinamento emergenza-urgenza della UGL Salute, Giuseppe Catalano, hanno partecipato ieri a Palermo all'incontro sindacale convocato dall'assessore regionale della Salute, Giovanna Bolo, per un confronto sul futuro dei lavoratori precari già impegnati durante l'emergenza Covid-19. Abbiamo finalmente avuto modo di portare all'attenzione dell'assessore le nostre preoccupazioni su quello che sarà il destino di migliaia di lavoratori, soprattutto il personale amministrativo e tecnico, ma anche farmacisti, biologi e assistenti sociali, che ancora oggi non sanno se potranno continuare a lavorare per il servizio sanitario regionale dopo il 28 febbraio. Stiamo parlando di lavoratori, continua la nota, che in questi anni hanno svolto un lavoro eccezionale, non solo impegnandosi nel difficile contrasto alla diffusione del virus, ma anche integrando a pieno i vuoti in organico di agenzie sanitarie provinciali e aziende ospedaliere in tutto il territorio siciliano. Abbiamo quindi ribadito ulteriormente al nuovo assessore la necessità di legare la possibilità di prorogare e di conseguenza stabilizzare questi ormai indispensabili lavoratori anche in funzione delle strutture che si dovranno aprire a breve grazie al finanziamento ottenuto con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, oltre che per integrare le posizioni vacanti da troppo tempo in ASP e ospedali. E su questo punto di vista confidiamo in un impegno deciso da parte del Governo Schifani. Auspichiamo dunque, concludono i due esponenti di UGL Salute, di poterci rivedere presto con l'assessore Volo, nella speranza di ricevere buone notizie in favore dei precari e inoltre anche per avviare un dialogo incentrato sul miglioramento del servizio dell'emergenza e urgenza in Sicilia. Lo SNALV, Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori, ha attivato a San Cataldo uno sportello di ascolto psicologico grazie al contributo di psicoterapeuti e professionisti dei servizi sociali e sanitari, un servizio gratuito. Il segretario territoriale Emanuele Bonaffini, a seguito di numerosi incontri con i settori sociali e sanitari, ha constatato l'aumento esponenziale di diverse problematiche che investono soprattutto i giovani, si legge in una nota. Caltanissetta, rotatoria tra le vie Messina e Redentori, installazione per rendere fluida e sicura la circolazione veicolare, si legge nell'ordinanza. Dopo quelle installate nella zona della Badia e all'incrocio tra Viale 3S e via Messina, che sostituivano quelle precedentemente esistenti, è stata installata in questi giorni una nuova rotatoria in città, così come aveva annunciato qualche settimana fa ai nostri microfoni il comandante della Polizia Municipale, Diego Peruga. Viene istituito infatti il senso rotatorio in corrispondenza della nuova rotatoria all'altezza dell'incrocio tra la via Messina e la via Redentore, con l'obbligo di dare la precedenza per tutti i veicoli che si immettono nella rotatoria a quelli che si sono già immessi nella stessa. Un provvedimento preso dopo aver effettuato un sopralluogo e al fine di rendere fluida e sicura la circolazione veicolare, si legge nell'ordinanza del 7 febbraio. Nella stessa giornata arriva anche un'altra ordinanza della direzione quinta, Polizia Municipale, CED, Affari Legali e Contratti, e riguarda gli stalli riservati ai taxi in Piazza Roma. Con il documento si stabilisce lo spostamento di uno di questi negli spazi affiancati agli archetti parapedonali, bianco-rosso, che si trovano in prosecuzione della via Pisani, vicino all'attraversamento pedonale, e degli altri due a prosecuzione del primo, così da sostituire due stalli di sosta a pagamento. Questi ultimi non vengono eliminati del tutto, ma semplicemente spostati, trasformando due dei vecchi stalli di sosta destinati a taxi in stalli di sosta a pagamento, mentre il terzo trasformato in stallo di sosta rosa. Stando al documento sarebbero stati gli stessi esercenti l'attività di taxi a richiedere lo spostamento, per far sì che gli stalli potessero essere più visibili agli utenti. Una decisione presa anche in questo caso dopo aver effettuato un sopralluogo. Si è spento all'età di 71 anni, Calogero Viticchie, maestro di karate, apprezzato da diverse generazioni di nisseni e non solo i funerali, venerdì alle 15.30 a San Pio X. Il mondo dello sport nisseno, in particolare quello del karate, piange la scombarsa del maestro Calogero Viticchie, uno dei più grandi maestri nisseni di karate tradizionali storici siciliani. Calogero Viticchie è morto ieri nel tardo pomeriggio a 71 anni. È stato per centinaia di sportivi nisseni il più importante maestro di karate shotokan, un ispiratore e una guida per molti giovani e maestri. Viticchie ha iniziato a praticare l'arte del karate nel londano 1973 con Lorenzo Creanza, allora a cintura marrone, in un piccolo garage di circa 30 metri adibito a palestra, sito in vicolo Guarnaschelli a Caltanissetta. Successivamente viene a conoscenza del maestro Torresanto di Catania, allora cintura nera terzo dan rilasciata dalla Federazione Fesica, con a capo il maestro Hiroshi Shirai, il quale ha studiato karate per molti anni a Milano. Calogero Viticchie non solo è stato solo un maestro di karate, ma anche un esperto pasticcere nisseno. I funerali si svolgeranno domani alle 15.30 nella chiesa di San Pio X. Andiamo allo sport. Nissa salta l'amichevole con rappresentativa regionale Juniores per il maltempo. L'allerta meteo diramata nella giornata odierna colpisce anche il mondo dello sport. Infatti, nel pomeriggio, era prevista una partita amichevole al Tomaselli tra la Nisse e la rappresentativa regionale Juniores Sicilia, gara che è stata ufficialmente rinviata a data da destinarsi. Era una buona prova per i biancoscudati per testare il loro stato di forma in vista della trasferta di Domenica a Mazzara del Vallo, dove gli uomini di Alessio Sferrazza vogliono provare ad uscire dal campo con una vittoria per dimenticare la sconvitta casalinga contro il Profavara. A parte la vittoria Roboande contro il fanalino di Coda Parmonval, la Nissa, negli ultimi match casalinghi contro l'Akragas e appunto il Profavara, seppur non demeritando, è crollata nei minuti di recupero, sintomo che la squadra non riesce a rimanere in partita per 90 minuti e oltre, oppure solo tanta sfortuna. Intanto, la Mazzarese si sta allenando duramente per affrontare i biancoscudati Domenica al Nino Vaccara, che dopo il pareggio nel derby contro il Mazzara vogliono vincere questa partita per allungare in classifica nei confronti della Nissa e sperare in un posto per i play-off. Bene, era questa l'ultima notizia per oggi, non ci sono ulteriori aggiornamenti, ci rivediamo nella prossima edizione del Telegiornale. Intanto vi lascio al metto le notizie di pubblica utilità e come sempre grazie per averci seguito. Un saluto ben ritrovati con le previsioni di Trebi Meteo. Nella giornata di venerdì un campo di alta pressione di natura azzorriana tenderà a imporsi con più decisione verso il nostro paese e nel frattempo il ciclone mediterraneo, che ha colpito soprattutto la Sicilia, si allontanerà verso sud e pertanto avremo un miglioramento su gran parte del sud Italia. Vediamo quindi la mappa della nuvolosità che ci mostra come ancora le regioni meridionali siano interessate da una frequente nuvolosità, specie la Sicilia, ma con la tendenza verso un miglioramento, mentre al centro nord il sole continuerà a dominare. Uno sguardo anche allo zoom delle precipitazioni che vede ancora una situazione di maltempo anche intenso nelle primissime ore del giorno sulla Sicilia orientale, ma con attenuazione dei fenomeni poi con l'andare della giornata. Quindi uno sguardo al tempo che farà sul nostro paese nella giornata di venerdì avremo sole protagonista ancora una volta al centro nord, con clima che però resta sempre freddo di notte e al mattino, ma valori termici in ripresa nelle ore centrali del giorno, mentre all'estremo sud, in particolare sulla Sicilia sudorientale, continuerà a maltempo con piogge nevicate ancora a quote di alta collina, ma comunque una tendenza a un'attenuazione dei fenomeni entro la fine del giorno. Per tutti i dettagli continuate a seguirci sull'app di Trebi Meteo. Servizio notturno Centrale Corso Umberto